Si va placando la furia dell'Etna. L'attività non è completamente cessata e l'unica colata ancora in movimento avanza molto lentamente e non minaccia più il comune di Randazzo. Secondo i dati dell'Istituto di Scienze dell'Università di Catania, dal vulcano sarebbero usciti in meno di una settimana dai 40 ai 60 milioni di metri cubi di lava. Il magma ha ricoperto oltre 500 ettari di terreno.